Ciao da Avsim! Cristiano is back! Mamma mia che carica! Ci va a affrontare il lunedì come fosse un weekend in una baita di montagna a San Valentino. O come fosse il secondo tempo di Juventus, anzi di Spezia Juventus, per la precisione. Il secondo tempo della Juve di ieri che è stato sicuramente convincente, soprattutto rispetto al primo, e che ha portato poi ad una vittoria netta. Nel giorno dopo Spezia Juventus 1-4 voglio partire proprio da Cristiano Ronaldo, dall'entusiasmo, dalla carica, dalla svolta che ha dato alla partita. Ne ha parlato anche Pirlo nel post-gara, sottolineando come non si sia trattato soltanto dell'impatto tecnico sulla partita di Cristiano Ronaldo, e cioè il gol, le giocate e poi anche il rigore, ma proprio dell'entusiasmo, proprio della carica emotiva. Cioè con Cristiano in campo tutti hanno fatto meglio quello che stavano facendo e quello che dovevano fare. Questa è la differenza, è qui che cambia la storia quando hai Cristiano in campo e quando non ce l'hai. Noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo e possiamo schierarlo ora che la parentesi Covid si è chiusa per quanto lo riguarda, e quindi ce l'abbiamo di nuovo e sta direi benissimo, anche se non ha fatto 90 minuti, e forse a fare 90 minuti non li avrebbe fatti tutti in maniera brillante. Però che gol? In che modo? Con quale rapidità dopo l'ingresso in campo è riuscito a trasformare? E poi un rigore precisissimo, cioè veramente da campione, perché lì hai anche la freschezza, la freddezza e la lucidità di decidere di fare magari un rigore un po' più rischioso, con una palla un po' più lenta e molto insolita per Cristiano. Cristiano è back e sta tornando anche la Juventus, o almeno speriamo che possa tornare ad alti livelli. Che prestazione è stata ieri e che cosa possiamo trarre ormai al giorno dopo, quando siamo tra l'altro già a poco da una nuova partita della Juventus, quella in Ungheria contro le Ferenc Varos per la terza gara di Champions League. Sicuramente l'approccio di Cristiano Ronaldo, ma anche dei dettagli tattici. Poi andremo a sviluppare meglio in Pirlo Tactics, la rubrica che come sempre il giorno dopo le partite della Juve prova a spiegarvi come ha giocato la Juve. Vi parlo anche della prestazione dei singoli, ma soprattutto quello che ha detto Pirlo nel post-gara, perché ha detto siamo stati molto bravi a trovare le linee di passaggio e ad attaccare la profondità contro una difesa molto alta come quella dello Spezia. Poi per quanto riguarda lo schieramento di centrocampo, visto che leggendo la formazione siamo andati un po' tutti nel panico e ci siamo chiesti va che cos'è un centrocampo a tre? Dove gioca McKennie? Ecco, l'ha spiegato Pirlo, ha detto abbiamo avuto un centrocampo a tre in costruzione. Questo perché? Perché loro avevano un centrocampo a tre e quindi Arthur un po' più vertice basso ci dava un'opportunità di girare palla meglio, ci dava la possibilità di costruire meglio. Mentre McKennie era chiaramente un trequartista, e lo abbiamo anche visto per il posizionamento, ha detto Pirlo era un trequartista che doveva attaccare la profondità e ha fatto molto bene i suoi movimenti. Poi quando però ci trovavamo a difendere tornavamo a 4-4-2. Sì, perché anche a prescindere da quello che può aver scritto il social media manager della Juve, 3-5-2, 3-5-2 non è stato praticamente mai, tranne appunto in alcune situazioni di costruzione in cui la linea arretrata della Juve era appunto una linea a tre con una linea di centrocampo che non era esattamente a 5, ma diciamo con l'equilibrio trovato in Arthur che veniva molto basso, appunto a fare il vertice basso, a fare il play basso arretrato, per una costruzione che ha visto proprio Arthur brillare e essere centrale nel gioco della Juventus. Come hanno giocato gli altri? Per la prima volta ho provato a proporvi delle pagelle scritte direttamente da me, senza chiedervi conto, e devo dire che il riscontro non è stato così sereno, nel senso che ovviamente a fare delle pagelle, a dare dei voti, si va sempre incontro a delle critiche, a delle contestazioni. In particolare mi avete criticato per il 5,5 a McKennie e il 5,5 a Quadrado, poi sul resto il 5 a Dybala, 5 a Bentancur, voti alti invece per Chiesa, Bonucci, Danilo e naturalmente Morata, siete stati tutti sostanzialmente d'accordo, oltre che Arthur, secondo me i migliori sono stati proprio Danilo e Arthur, oltre poi Ronaldo decisivo e Morata che ha fatto una grande prestazione, però appunto perché insufficienza a Quadrado e a McKennie. Soprattutto su McKennie c'è stato molto dibattito, non siete d'accordo su questo. Bene, secondo me McKennie ha fatto dei buoni movimenti tatticamente, come ha detto lo stesso Pirlo, però tecnicamente ha fatto tanti errori. Quanti passaggi ha sbagliato nei confronti di Quadrado? Quante volte ha dato una palla inopportuna, più che imprecisa, proprio anche pensata male ed eseguita male? Queste sono cose che pesano poi nella dinamica di una partita, nell'economia di una partita, perché sei in una zona calda, sei in una situazione in cui se sbagli un pallone ti vengono contro, ti fanno il contraattacco. E allora McKennie deve migliorare su questo. Il 5,5 è di incoraggiamento, è in funzione di una crescita che vogliamo vedere. Mettere voti troppo alti per una partita contro lo Spezia non è molto positivo, secondo me è controproducente. Dobbiamo invece restare abbastanza ancorati. Alla realtà renderci conto che si è trattato solo dello Spezia, con tutto il rispetto perché ha fatto anche una buona partita, però dobbiamo essere in grado di fare molto meglio contro squadre che ci possono impegnare di più. Ed è questa stata anche un'altra problematica, di cui anche magari il voto un po' più basso a Quadrado, in realtà per la stessa motivazione, più che per la fase difensiva, proprio per la fase offensiva, per l'imprecisione, per il fatto che Quadrado sembra sempre, come dicevo ieri nel post partita a caldo, avere la convinzione di star facendo la cosa giusta, la cosa migliore, ma non sempre è così. E quando non è così poi commette degli errori di pensiero, di concetto, oltre che di esecuzione. Almeno due situazioni calde, Quadrado le ha sprecate crossando male, o forse anche tre addirittura. E queste sono cose che pesano, ripeto, perché poi se andiamo a vedere la Juve ha fatto pochi tiri totali, e ancor meno in porta naturalmente, ma con estrema precisione, perché abbiamo tirato pochissimo fuori, abbiamo tirato molto in porta. E questo proprio perché abbiamo sprecato delle possibili situazioni d'attacco, anche per colpa di Quadrado, anche per colpa di McKennie. Al netto del fatto dicevo che comunque, per quanto riguarda l'aspetto tattico, si sono mossi entrambi abbastanza bene. Poi, insomma, il resto delle pagelle le trovate sul mio profilo Twitter, sul mio profilo Instagram, dove appunto le ho pubblicate, ma a questo punto dobbiamo entrare con uno zoom nelle pagelle, appunto, e parlare in particolare di un caso che è scoppiato, se vogliamo, ieri, che è quello di Paolo Di Bala. 5 a Di Bala mi sembra doveroso, cioè non gli si potrebbe dare di più, forse gli si potrebbe dare anche meno come voto, però io ho voluto dare forse un mezzo voto in più rispetto ad un 4-4,5, perché credo che ci sia stata la componente della condizione fisica nella prestazione deludente, negativa, di Paolo Di Bala contro lo Spezia. Che cosa non ha funzionato? Praticamente tutto, perché ha sbagliato i passaggi, ha sbagliato i posizionamenti, ha sbagliato i ritmi, si è attardato tante volte, si è fatto rimontare, si è fatto togliere il pallone. Insomma, è stata una partita scialba, è stata una partita quasi nociva, sicuramente deludente, da parte di Di Bala. Se c'è una cifra importante a livello di condizione fisica, va bene così. Cioè, è stata una brutta partita, comunque nonostante questo abbiamo vinto, anche grazie al cambio di Pirlo, che proprio al posto di Di Bala ha messo Ronaldo, e dalla prossima partita ritroveremo un Di Bala più in forma, probabilmente. O che magari, saltando la prossima partita e giocando magari solo 20 o 30 minuti, potrà appunto recuperare la miglior forma fisica senza andarsi a stressare troppo con continue partite da 90 minuti dopo tre mesi di inattività, perché è quello che sta succedendo e quello che stiamo vedendo. Ieri non ha giocato 90 minuti, ha giocato quasi un'ora, però aveva fatto 90 minuti nelle due partite precedenti nel corso della settimana. Quindi questo probabilmente ha pesato. Dopodiché c'è adesso una situazione mentale su Di Bala, perché lo abbiamo visto uscire dal campo molto rattristato e anche quasi contrariato. Io credo con se stesso per la brutta prestazione, io credo frustrato per non essere riuscito a giocare come avrebbe voluto. Non credo che ce l'avesse con Pirlo per il cambio, perché Di Bala è sempre stato molto intelligente su questo. Solo una volta sbottò, mi pare, con Allegri per una sostituzione, ma neanche tanto, ha sempre accettato di buon grado lo stare in panchina o l'essere sostituito una volta titolare. Il punto è adesso la reazione di Di Bala, perché andando a rivedere il film della partita, lui gioca male, malissimo, non l'unico per carità, e comunque non è stato determinante per una brutta prestazione del primo tempo, se vogliamo. Viene sostituito, entra Ronaldo, dopo tre minuti la Juve passa in vantaggio, svolta la partita e vinciamo. Quasi a sentenziare l'inutilità di Di Bala e la predominanza di Cristiano Ronaldo rispetto a lui. Non che, per carità, ci fosse bisogno di dire che Ronaldo è più forte di Di Bala, però, per esempio, la scorsa stagione Ronaldo ha fatto un campionato, una stagione meno continua a livello, con meno continuità di prestazione e di rendimento rispetto a Di Bala. Quindi, magari Ronaldo è il più forte, però Di Bala può essere il più bravo in alcune situazioni. Il punto è che così è stato troppo dirompente, è stato troppo palese come con Di Bala stessero andando male le cose e con Ronaldo tolto Di Bala siano andate invece decisamente meglio. Che reazioni avrà Paolo Di Bala a questo punto? Riuscirà da questa cosa a ritrovare energie per tirar fuori il meglio da sé e quindi fare delle buone prestazioni, come ci ha abituato a vedere la scorsa stagione e nelle passate stagioni? Oppure subirà un contraccolpo psicologico e abbiamo bisogno di recuperare mentalmente pure lui? Ovviamente io mi auguro la prima opzione, però a leggere i commenti di alcuni tifosi, e qui chiudiamo ancora sul caso Di Bala, perché vi ho detto tutto quello che volevo dirvi dal punto di vista dell'esito, dei messaggi, dei significati di questo speciale Juventus, poi gli aspetti tecnico-tattici li vediamo appunto in Pirro Tactics. A leggere, dicevo, i commenti dei tifosi, Di Bala è già bocciato. Io dico molto semplicemente, ripeto, ho dato 5 come voto a Di Bala, quindi non sono certamente uno che scalpita e sbraita perché viene criticato Paolo Di Bala. Io sono sempre stato dell'idea che le critiche possono e devono essere costruttive da parte di noi tifosi. D'altra parte stare qui, onestamente, ad applaudire soltanto, sarebbe anche inutile. Costa tempo e fatica produrre video quotidianamente, impiego il vostro tempo, e quindi devo dire delle cose sensate e devo farlo in maniera ponderata e direi anche abbastanza oggettiva, fornendo dei contributi. E quindi la critica è in quest'ottica e va criticato Di Bala per la prestazione che ha fatto ieri, ma anche per quella che ha fatto contro il Barcellona. Senza che ci mettiamo a fare gli avvocati difensori per dire no, ma è questo problema qui, no, ma è quest'altro problema. Però non dobbiamo fare neanche i pubblici accusatori. Soprattutto non accetto, sinceramente, non accetto da tifoso, non da difensore di Di Bala, perché ve l'ho detto prima della partita con lo Spezia, Di Bala la scorsa stagione ha fatto una grande stagione, ma adesso con Pirlo si resetta, non deve assolutamente campare di rendita, non deve assolutamente avere dei giudizi positivi sulla base del passato per riconoscenza e diciamo per posizione acquisita, e quindi se Di Bala dopo questo reset non fa lo stesso rendimento la scorsa stagione, lo giudicheremo sulla base di questa stagione. Però non accetto da parte di chi non è stato capace, non è stato capace di criticare chi in passato, cioè altri calciatori che in passato con la maglia della Juventus hanno giocato molto peggio di Di Bala e non hanno mai giocato bene come Di Bala quando Di Bala ha giocato bene. Da queste persone che non sono stati mai capaci di criticare questi altri giocatori, non accetto, sinceramente, gli insulti, la delegittimazione, le critiche feroci, aggressive, nei confronti di Di Bala. È stato anche sbeffeggiato Di Bala sui social, letteralmente sbeffeggiato sui social, durante la partita si percepisce che c'è una fetta di tifoseria bianconera che non vede l'ora di poter dire che Di Bala ha fatto schifo in campo, che non vede l'ora di avere l'opportunità di scaricargli addosso un po' di frustrazione, perché forse di frustrazione personale si parla. Cioè non puoi veramente passare una partita una domenica pomeriggio a sperare che Di Bala faccia male così poi viene sostituito dopo una brutta prestazione e tu lo puoi insultare. Insulti sessisti nei confronti di Di Bala, chiamato femmina, detto che bisogna andare, che deve andare a giocare con la Juventus Women, anzi, quelle della Juventus Women hanno più coraggio, hanno più personalità di Di Bala. Cioè, proprio sessismo becero. Per quale motivo dovrebbe essere una notizia che una donna ha più carattere di un uomo? Cioè perché le donne hanno meno carattere di solito, ma vi leggete quando scrivete certe cose. A prescindere adesso da Di Bala, Di Bala col cerchietto, Di Bala patatino, cioè questa è tifoseria, questi sarebbero tifosi. Io non do patenti per carità, per me non c'è un tifoso migliore, un tifoso peggiore. Dico semplicemente che chi si pone in questo modo, nei confronti di Di Bala ma nei confronti di chiunque, in quel momento non sta facendo il tifo. Perché se tu vuoi dare sostegno a questa tua visione distorta delle cose, vai a distorcere la realtà, la pieghi a tuo vantaggio. E cioè dici, non vedi loro appunto che Di Bala giochi male per poterlo contestare. Se ieri Di Bala, prima di uscire dal campo, avesse fatto gol, cosa avrebbero detto certe persone? Sarebbero tornate nel mutismo, sarebbero tornati zitti, come hanno fatto ogni volta che Di Bala ha giocato bene ed è stato decisivo e determinante. Allora, siamo tutti tifosi, tutti abbiamo il diritto di esprimere delle opinioni, però serve linearità, essere coerenti ed essere in buona fede, soprattutto. Allora, Di Bala farà quello che deve fare e compito suo risollevarsi da questa brutta prestazione e da questo momento no. Noi dobbiamo sostenerlo, come si è sempre detto che bisogna sostenere tutti i tesserati, no? Avete detto che non bisognava mai insultare, molti hanno detto che non bisognava mai insultare i giocatori, che bisognava sostenerli tutti, anche quelli che giocavano proprio male, 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 e parlo proprio dei protetti di certa fetta della tifoseria, quindi sosteniamolo. Non dipende dal nostro approccio se Di Bala giocherà bene o male perché deve lavorare su se stesso e da solo, indipendentemente dal sostegno o meno dei tifosi, però con linearità, con coerenza e soprattutto con buona fede dobbiamo assolutamente stare dalla parte di Di Bala perché Di Bala è un patrimonio in questo momento della Juventus. A prescindere poi dai discorsi sui 15 milioni richiesti di rinnovo di contratto perché ovviamente non chiedi e non meriti né demeriti 15 milioni o 10 milioni o 20 milioni per una partita contro lo Spezia in una situazione sicuramente di condizione fisica non ottimale. Buon dibattito nei commenti, grazie per la vostra attenzione, nel rispetto sempre di tutti mi raccomando, nello spazio qui sotto e mettete like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve! Grazie a tutti!